Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Final Fantasy 6 finalmente siamo tornati Io adesso devo fare il giro per arrivare in quella grotta, lo sapevo io che non poteva esserci un tunnel sotterraneo in quei monti Ah, è prestissimo raga, però se non registro adesso non registro più quindi Tanto va, oddio che bel posto È un posto davvero bello Cascate di... bene, ma non so, non ho letto Spero che l'audio questa volta si senta bene, cioè che cazzo Tre video su cinque che registro sono con l'audio male Devono essere le cascate di Baren Ah, le cascate di Garen, ah sì sì A sud c'è il Monte Veld Una terra selvaggia e pericolosa, in cui dimorano le specie più feroci Ma se torniamo indietro dovremo l'impero ad aspettarci Lungo la costa orientale via il villaggio di Mobilitz Se riusciamo ad attraversare il Veld potremmo trovare il ristro là Ho raggiunto il mio scopo Shadow Grazie per il tuo aiuto, potremo allearci di nuovo in futuro Quindi ora dobbiamo tornare indietro Vuoi tuffarti nelle cascate? Ah, dovrei salvare, va buono, non c'è niente da salvare No, anti Io stavo per tornare indietro, Garen Oddio, addirittura per lei cascate mentre cado Devo combattere Cazzo, merda Come si faceva? Ok Ok Tu invece, vabbò no Attacca normalmente perché poi perdi tempo Lo so come sei One shot ed infatti E one shot Che bastavano attacchi normali allora Bastano attacchi normali, raga Attaccate semplicemente Non avete attacchi ad aria voi due Che palle, però Siete delle palle Ma perché i mob mi devono attaccare Proprio mentre sto cadendo Neanche mentre sono nelle cascate Sto cadendo Mob Non so se possono chiamare così Spero che mi diano dei punti esperienza Alla fine di tutto questo combattimento Beh oddio 19 danni non sono tantissimi E ora ne sto ammazzando 8 milioni Di queste cose Sti due sono pure lentissimi ad attaccare Soprattutto Sian mi sembra No non è vero Io sono cazzata Si ricaricano uguale Ah no Non è vero Oddio Che cosa Ok ho capito Questo è tipo il boss Con questo ci dovremo sprecare Le 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 mosse speciali Innanzitutto oggetti Gran pozione Su Sabine Tu usa Le tecniche di Bushindo Assolute Mentre se le si prepara Infatti viene anche attaccato Buffera Eh oddio Penso che lo focussino Mentre prepara le mosse Due Tre Quattro Fatto Crepa Beh è stata una boss fight Abbastanza semplice Ma ragazzi Quanto ci sono Sono le 8 e 18 Ho ottenuto una pana Una panacea Una panacea Non è uno di quegli oggetti No vabbè Lasciamo stare Lasciamo stare Per dire cose che non posso dire A quest'ora di mattina Ah mi dicono che sono profondissime Queste acque Dove vi si rituffati Bravi Bellissima idea Non controllate neanche Che cosa c'è sotto Oddio È Peter Pan Peter Pan Peter Pan con gli spasmi Peter Pan che corre sul posto Guarda Mi prende Un altro personaggio ancora Un aborigino avvolto da pelli di animali feroci Eppure il suo sguardo brilla di una luce docine C'è una t-shirt C'è una t-shirt gialla Da quello che vedo io Non è pelle di un animale feroce Si chiama Gau Oddio quanto cazzo è brutto Bruttissimo sei Lui dice no no Non mi farò aiutare da te Perché i loro sprite Sono totalmente identici Chi sei? No no Io non compro niente Non compro niente Lui è scappato giustamente Perché lui non compra niente Salviamo Ah sono ancora con Sian Quindi Sian è ancora con me Ottimo Good to know Ciao coniglio feroce Eh io che cavolo fa Non ci posso credere Adesso morirò per via di questo coniglio Perché ho sbagliato tutto Non ci posso Mi ha attaccato di nuovo Povero coniglio Beh abbiamo fatto l'insalata Tu bobo attacca perché Cioè ci metti troppo Con le tue mosse Bratello Tanto questi qua Crepano in un colpo comunque Sentite le musiche Intanto raga Non posso passare per di qua Dite davvero Ma fatevi un po' più secchi Fortunatamente qua non Oddio Questi qua fanno schifo Perché ho visto gente mangiare Di questi cosi Scommetto che le avete visti anche voi Ma io avevo detto quell'altro Perché mi fussi quello Vabbè no Forse sono io stupido Vabbè potrei anche evitare Di fare queste uscite Nel senso Io ho detto quell'altro Poi mi fuggolo Di che cosa sto parlando Ma blitz Non ci sono già state In questa città Ho ricevuto la lettera In cui si dice Che è scoppiata la guerra Devo crederci Tizio Oh tizio Aspetta L'unico nostro contatto Con il mondo esterno Sono i vicini viaggiatori Oh Vediamo un pochino Che posto è questo Una stanza costa 100 quill la notte Beh è poco Vuoi soggiornare qui Aspetta Voglio vedere un Beh Sian ha bisogno Un po' di rimettersi in sesto Per certo quill Sì Sì Ma va Ah oddio Le stanze sono pubbliche Cioè i letti Sono pubblici Pubblici Le stanze Inesistenti Totalmente In questo Albergo Però vabbè Posso leggere questo No Non lo posso leggere Va bene Ciao Ti ringrazio Per la tua Tanta ospitalità Ho disattivato Le scarpe da corsa Come ho fatto Come ho fatto A disattivare Le scarpe da corsa L'unico nostro Vabbò Sì sì Me l'hai già detto Ma tu non eri Di là prima Ciao cane Si doveva fare Quello raga Mentre ero a caccia Ieri Avrei giurato Di aver visto Un ragazzo Correre in mezzo A un branco di mostri Mi chiedo Se sia stato Solo il frutto Deve farvi D'immaginazione Ah Non so Se si riferisce A qualcuno Della storia O cose Del genere Piccione Ciao Bambina Ciao Il soldato Dentro questa casa Non sta bene Ecco perché Mamma dice Che dobbiamo Passare la voce Silenzio Oh Ti silenzio A te Ti silenzio Ciao Ciao tizio Un soldato Che non mi ha definito E' curato Il suo ferito Ma solo Ti insegno Le cose Neve Non ho capito Niente Comunque io vado A disturbarlo Buongiorno Buongiorno Salve Sono un soldato Di Maranda Non l'imparo Conquistato La nostra città Mi sono arruolato Con l'oro Invece di aiutarli Nell'attacco a domo Ha cercato di fuggire Mi ha inseguito L'ho scampata per poco Ora non riesco a muormi Non vedrò mai più Lola Sulla scrivania C'è una lettera Me la daresti per favore Tieni Le strade di Maranda Pullono Di soldati imperiali Ma A parte questo Tutto è tranquillo qui I fiori in giardino Sbocceranno presto E porteranno con loro Una radiosa primavera Come stai? Sono preoccupato Mi piacerebbe poterti raggiungere in volo E stare con te Cerca di guarire Non fare niente Che ti cause eccessivo sforzo Riposo pensando che io Non faccio altro che pensare a te E sperare di rivederti Lola Vorrei risponderle Ma non ho nemmeno la forza Di impugnare una penna Che cosa Questa è stata una cosa davvero dolcissima Ok Lo ammetto Questa è stata una cosa davvero dolcissima Io Proseguirò senza le scarpe Da corsa Perché Sì Perché non mi ricordo come si attivano Vorrei inviare una lettera a Maranda Da parte Vuoi inviare una lettera a Maranda Da parte del soldato sverito La frangatura costa 500 Cui Ammazza Una stanza a rotella costava 100 Oh ma che ladri siete Ma peggio di Equitalia Dimmi se ti serve qualcosa Posso inviare lettere e pacchi Vabbò Te l'ho mandata quella cavolo di lettere Intanto però Qui c'è un sotterraneo Mennaggio ai comandi Quanto sono difficili Vediamo un pochino In questo sotterraneo Se si può fare qualcosa Tu tizio che giri Tizio L'entrata della via del serpente Si trova presso il monte Crescente Vicino alla punta meridionale Del continente Mi stai prendendo per il culo Era tutto in rima Ed era totalmente un caso No Mi stava prendendo per il culo E alla fine della storia Torno qua Gli faccio il culo A quel tizio Affanculo Oh luce è un tizio solitario Sei il tizio dei messaggi Lunga la via del serpente Ci sono forti correnti oceaniche Mi hai sentito parlare? No Oh Che state le camera In due dimensioni Che fingono di essere tre Dove ci stiamo spostando? Qui dunque? Basta tu sfarsi E si viene a trasportare Fino a nikea Peccato che il nostro Unico elmo d'immersione Si è stato rubato Oddio i viaggi rapidi Si I viaggi rapidi Quindi io potrei Da qua ci si tuffa E Ah boh Fantastico Fantastico Era un'ottima informazione Quella Andiamo a controllare In quest'ultima casa E dopo andiamo a riparlare Con il soldato Morente E Emporio Scarni essiccata Va bene Si Si Ok Pozione No non mi serve Vorrei una gran pozione Grazie Anzi non una Ne prendo Ne prendo 20 Tanto ho soldi Tenda Ne possiedo Già 4 E quindi ne facciamo 6 Sacco a pelo Ah la tenda Della squadra Questo qua invece Solamente Di un tizio Ok va bene Ho già abbastanza Tende Sto tutto a posto Lì vorrei andare A aprire quella cassa Però non posso Tizio Salve L'ultima volta Che mi sono Arregato al belt Ho lanciato Una manciata Di carne Essiccata A un branco Di animali Un ragazzo È uscito dal branco Ha preso la carne Ed è fuggito via Oh C'è un ragazzo Quindi parlano Di un ragazzo Che se la fa Con gli animali È illegale In Italia Mi sembra Ti sposti Grazie Che già non posso Correre Devo andare Anche a piedi Salve Ho mandato La lettera È arrivata Un'altra lettera Me la porteresti? Minchia Manco posta elettronica Qua Arrivano le lettere In tre secondi Non riesco a trovare Il tuo disco preferito Se lo ascoltassi Ti sarei più vicino Farei di tutto Per l'ola Se solo mi potessi muovere Oddio Non è che questo È il suo disco preferito E se l'è Tipo rubato Di che ti se l'ha portato A presso Intendo Oh boh Raga Sono le 8 e 30 Erano le 8 e 18 Quando ho iniziato Questo video Se la matematica Non mi inganna Non è calcolabile Il tempo Per cui è andato avanti Questo video Per cui Io stoppo qui E noi ci rivediamo Nel prossimo video Nel prossimo episodio Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate il mi piace Solamente per Arianna Dai Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.